Buon segno questo. Apre il gioco sulla destra. Si fa avanti in territorio nemico. Roberto Baggio! Volete! Una grande reazione. Ora la partita si fa ancora più interessante. Una conclusione assolutamente imparabile. Precisione, potenza e tempi di esecuzione. Questa rete ha tutte le carte in regola per finire nelle classifiche dei gol dell'anno. Gol! Marcò, nel minuto 65, il dorsal 10.